Ciao a tutti da Poderak, in questo video come già avete letto dal titolo ho un regalo per voi In pratica la iobit mi ha dato la possibilità di regalarvi una licenza per attivare Advanced System Care Pro gratuitamente In che modo? In pratica i primi 50 che mi contetteranno in privato su Facebook tramite messaggio privato Avranno la possibilità di ottenere una licenza per attivare per 6 mesi Advanced System Care Pro Di che cosa si tratta? Si tratta di un programma che vi permette di pulire in modo professionale il vostro computer Di fare un po' di antivirus E comunque diciamo è un software abbastanza carino da avere sul proprio PC Comunque ho già anche realizzato qualche giorno fa un video Vi lascerò in descrizione questo video in modo tale che riusciate un po' a vedere di cosa si tratta Mi raccomando la licenza la distribuirò solo a 50 di voi Quindi i primi 50 che riusciranno a contattarmi in tempo avranno la possibilità di ottenere la licenza Quindi affrettatevi E detto questo se volete lasciate un like al video Iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati Se volete seguitemi anche sui vari social Facebook, Twitter, Instagram E noi ci vediamo al prossimo video Ciao